Buonasera e ben ritrovati a Vita di Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi una ciclista professionista, un ragazzo molto simpatico, Daniele Colli. Ciao Daniele. Grazie dell'invito e buonasera. Grazie a te. Ti trovi a Livigno in Raduno con il tuo team, la Nippo Vino Fantini, un team ridotto a ranghi minimi per questo periodo. Siete solamente in due corridori qui a Livigno. Sì, siamo venuti qua io e Damiano Cunego. Abbiamo avuto la possibilità, grazie al team, di venire proprio qui. E' anche un vantaggio perché arriviamo tutti e due da un infortunio, quindi riusciamo a prepararci al meglio per quello che sarà il futuro di questa stagione, perché ancora ci sono molte gare tra agosto e settembre, quindi speriamo di tornare ai protagonisti. Abbiamo scelto Popoli Vigno perché è comunque una meta ideale per riprendersi al meglio. Rientrerai le competizioni nel mese di agosto alla Vuelta Burgos, insomma, in Spagna, con buoni propositi. Sì, adesso ho recuperato abbastanza l'infortunio, comincio a pedalare abbastanza bene. Il problema è che non so gli altri come vanno. Saranno stanchi. Esatto, due mesi che non corro, sono caduto al Giro d'Italia, quindi conosco la mia condizione, ma non conosco quella degli altri, quindi questo sarà un piccolo svantaggio. Però già, insomma, riattaccare il numero per me è qualcosa di importante, anche perché i medici tutto avevano pensato, ma meno che tornare alle corse, quindi è già un piccolo successo e la prima gara per me sarà un po' difficile, perché sono caduto, quindi avrò anche magari un po' di timore o ancora una frattura, quindi non è che sono proprio a posto, però ho voglia di tornare a correre, poi, come ho detto, nel mese di settembre è lì che spero proprio di trovare una condizione buona. Daniele, sei passato, tuo malgrado, agli onori della cronaca nazionale per quella caduta bruttissima durante la sesta tappa del Giro d'Italia. Una volata, un fotografo che si è sporto troppo dalle transenne ti ha urtato, tu ci sei andato contro, una caduta veramente bruttissima da vedere. Le immagini sono fermate molto su di te, insomma, gli appassionati ti ricordano. Sì, infatti tutti mi dicono che la si è quello del braccio, sì, sono io. Niente, c'è questa immagine del mio braccio ritorso e adesso a me a vederla non mi fa neanche effetto, perché comunque ero lì, quindi. Infatti quando mi dicono, ma ti sei accorta? Sì, perché avevo il braccio praticamente dall'altra parte e il corpo dall'altra. Certo. No, scherzi a parte, comunque è stato un brutto colpo. Ho avuto la fortuna anche di saper ritornare, perché comunque nella mia carriera ho avuto infortuni e anche una malattia grave, quindi questo mi ha aiutato, mi ha permesso di prenderla un attimo alla leggera e comunque so come ritornare, che è molto importante. Quindi sapevo già cosa mi aspettava, la riabilitazione, la piscina, comunque si perde tantissimo. Però ecco, questa sfida proprio che alla fine è con me stesso, è il mio corpo, perché potrei tranquillamente mollare, invece insisto sempre per ritornare a un buon livello. In tema di infortuni, visto che comunque mi fa piacere, tu sei un ragazzo davvero molto positivo, la metti anche un po' a sorridere. Vorrei chiudere la parentesi, ma non prima di ricordare, due episodi sfortunati della tua carriera. La frattura dell'anca partita lo scorso anno durante il Giro d'Italia, ma in verità non durante il Giro d'Italia, bensì prima, ma tu fossi comunque alla partenza dell'edizione del 2014. Sì, praticamente ero caduto in Turchia e già appartenente questa frattura c'era, solo che probabilmente gli esami sbagliati o queste cose non hanno permesso di verificarne il giusto. Io poi sono partito per il Giro d'Italia, sono ricaduto proprio sopra questa anca e probabilmente lì la frattura si è stesa e ho pedalato per un'altra settimana finché proprio qui nella tappa del Gave e dello Stevio dove nevicava e quindi ero già partito in condizioni estreme, con questa frattura non riuscivo nemmeno a pedalare, quindi con il freddo e la muscolatura comunque raffreddata è stato praticamente impossibile. Vabbè, comunque mi è spiaciuto perché mancavano solamente 3-4 tappe a finire il Giro. Non è stato così. Quest'anno c'è stata questa caduta, di fatti molti mi dicono no ma partecipa al Tour de France perché il Giro d'Italia ovviamente ti porta a sfortuna. Però tutto sommato è bello perché è la corsa che conta di più per un italiano e quindi per me è importante. Certo, sei stato capace anche di rialzarti da un bruttissimo infortunio, mi permetto, un tumore al ginocchio, ma giusto per dare comunque speranza che ci segue agli sportivi e non che hanno a che fare con questa malattia. Ti hanno diagnosticato un tumore al ginocchio? Sì, niente, nel 2011 per tutto l'anno comunque soffrivo di questo problema al condilo femorale che è l'osso vicino al ginocchio e non capivo che cosa fosse perché non mi lasciava in pace e continuavo a avere fastidi, però pensavo veramente a tutto, una tendinite piuttosto che dei legamenti e quant'altro. Invece poi durante una partita a calcio ovviamente sono crollato, ho ceduto col ginocchio e due giorni dopo ho fatto subito una risonanza perché ho detto vediamo in questo momento che non c'erano gare a ottobre, cerchiamo di capire che cosa c'è. E nulla, quando sono arrivato lì ho fatto questa risonanza e poi è stato strano come racconta molti perché l'ospedale mi ha chiamato tutto il giorno ma io non avevo mai risposto perché non conoscevo il numero, non pensavo fossero loro. In realtà poi la sera sono riuscita a mettersi in contatto e mi hanno detto deve venire domani mattino urgentemente all'ospedale. Io ho detto ma probabilmente visto che sono un professionista vogliono farmi sapere prima l'esito che è normale, io lavoro col mio corpo. Invece la mattina sono arrivato alle 7 frastornato, sono entrato in questa stanza dove il medico mi ha preso la lastra e mi ha detto guardi lei ha un tumore di 3 cm per 5 sull'osso, non cammini più perché rischia di perdere l'arto. Allora lì è stato veramente un periodo gelato per me perché comunque un conto è cadere poi in bicicletta o nello sport invece quando ti ritrovi comunque a avere a che fare con questa malattia dove io non conoscevo niente e quindi ci ho messo un attimo. Per fortuna poi mi aveva solo colpito le cellule giganti quindi non era né benigno né maligno ma era in mezzo e non era né buono né cattivo e con 3 interventi sono riuscito poi a sistemarmi e dopo 5-6 minuti sono ritornato alle corse. Lì è stato veramente, cioè tornare è stato terribile perché partivo non da zero ma da meno 100 quindi infatti mi ricordo che racconto a tanti che le prime uscite mi passava la gente con la graziella quindi ero veramente un meno di una persona normale e invece poi sono ritornato ho fatto subito un secondo posto alla seconda gara quindi avevo raggiunto una motivazione impressionante perché comunque quando avevo mal di gambe dicevo ok ma se hai passato quello che cos'è il mal di gambe quindi questo mi ha rinforzato ecco poi sono anche riuscito a vincere l'anno dopo quindi è stato tutto ecco emozionante. Di sicuro l'essere sportivo dentro aiuta anche evidentemente nelle difficoltà serie della vita. Sì perché comunque lo sai anche tu che sei stata sportiva quindi si cade, si rialza, bisogna ritornare comunque si ha una concentrazione, si ha una vita perché comunque la vita dell'atleta è allenarsi, mangiare bene, riposare comunque è un sacrificio e tornare dopo una malattia comunque è uguale quindi se già conosci il percorso è più facile. Certo. Hai avuto modo anche di conoscere una famiglia di Bormio quella di Elisa e Daniele li citiamo perché sono conosciuti li conosciamo personalmente hai avuto modo di conoscere anche loro il loro figlio Pietro quindi sono situazioni di vita che magari col tuo esempio aiutano anche i gatti a superare questi momenti meno... Sì perché tantissime persone cercano un esempio ecco io ero appena guarito e loro avevano questo bambino che era malato di leucemia e ancora non sapevano bene perché seguiva dei cicli di chemio quindi era ancora sotto cure e la mia storia comunque era una storia positiva quindi in quei casi ti aggrappi a chi è guarito ma l'ho vissuto anch'io perché io mi attaccavo ad esempio di Lance Armstrong anche se magari molti non lo condividono come atleta perché ha barato e quant'altro ma quello a me non interessa perché io vedevo il lato umano e ho detto cacchio se ce l'ha fatta Armstrong posso farcelo anch'io perché comunque quando sei malato purtroppo ti aggrappi a delle cose pazzesche infatti io dico a tante persone ad esempio a me mi hanno detto se sei maligno ti tagliamo la gamba io ero arrivato al punto di dire ok però vivo lo stesso quindi ti metti in una dimensione e in una prospettiva che conoscono in pochi quindi quando sei lì dici cacchio ma se accetta di vivere con una gamba chissà quante volte che ci lamentiamo per cavolate o così quindi tantissime persone mi hanno scritto anche persone malate purtroppo alcune nemmeno ci sono più quindi mi è piaciuto ecco quella fase essere magari proprio un esempio per alcuni infatti ho detto sempre queste qui sono delle vittorie perché magari non sono dei risultati sportivi però avere questa fortuna ecco che le persone si ispirino a te è una cosa positiva Daniele chiudiamo questa parentesi ma ti ringrazio ancora di cuore per averla aperta in questo modo vittorie nella tua carriera tante una tra le più blasonate e prestigiose il tuo campionato italiano da juniors lo ricordi come se fosse ieri? sì lo ricordo come se fosse ieri perché ero proprio qua a Livigno a prepararmi quindi ho passato tre settimane qui per avere proprio dei benefici fisici perché comunque l'altura stimola i globuli rossi quindi hai anche un vantaggio a livello ematico e non sono io a dirlo ma è proprio la scienza quindi ecco in più me l'ho veramente preparato bene ed è riuscito a vincere tra l'altro battendo Damiano Cunego quindi che poi vinse il mondiale quindi per me è stato e tu partecipasti a quel mondiale? no per fortuna no perché io ero primo anno e lui era secondo anno quindi avevano optato per una squadra un po' più anziana ecco io ero gli uniones al primo anno ed ero riuscito già a impormi con quelli più grandi quindi è stato comunque emozionante poi secondo anno ho vinto il campionato italiano a cronometro e quindi insomma da giovane ho avuto una buona carriera la tua vita da professionista cominciò nel 2005 la tua prima squadra fu la Liquigas la Liquigas la Liquigas la Liquigas la Liquigas la Liquigas perché anche con la Panale avevo avuto una brutta caduta e nulla dopo di che ho scusa Daniele in quell'anno di stop che cosa avevo iniziato a lavorare in un locale di un mio amico dove gestivo delle serate tu sei milanese? sì quindi facevi il DJ? no 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 gestivo proprio gli eventi di questo locale sì e dopo di che praticamente ho fatto sei mesi a lavorare correre quindi è stata tosta che cosa ti ha fatto riprendere la voglia di tornare in bicicletta? ma non è stata un po' particolare perché avevo un mio amico che aveva un centro di preparazioni e continuava a dirmi che era un peccato che io smettessi perché avevo comunque dei buoni valori ecco dei fisici e lui si è occupato ha trovato una squadra piccolissima presente in Ungheria che sembra una varzelletta dove praticamente erano dei direttanti quasi e per me comunque ritornare a mettermi in gioco così tanto in basso era difficile però ho accettato questa proposta proprio perché volevo ritornare a dovero quindi sono ritornato dal fondo poi ho detto posso solo risalire difatti dopo due o tre anni comunque sono tornato nel ciclismo che conta ed era proprio in Romagna che ottenesti la tua prima vittoria da professionista tra l'altro sì una corsa piccola ecco però vincere non è mai facile quindi quello è stato poi un input che mi ha mi ha aiutato per trovare un'altra squadra più grande fino ad arrivare a questa questo team italo-giapponese o se giopo-italiano visto che il colosso è questa Nippo Nippo è un'azienda di costruzioni di costruzioni sì è uno dei primi 5-6 al mondo quindi è enorme ha 55.000 dipendenti e fattura 2 miliardi e mezzo di euro quindi diciamo che è un colosso e stanzia un budget proprio per tutti gli sport quindi non siamo solo noi sponsorizzati Nippo questa è una cosa importante in Italia non esistono queste cose quindi pensiamo quanto siano avanti in Giappone in questo perché qua multinazionale magari sponsorizza lo sci è finita lì quindi non faccio nome però è così certo mentre ecco magari io non so la tassazione come funziona però vengono proprio stanziati i crediti per lo sport beh dai è una cosa positiva dunque ogni tanto andrete in Giappone a correre sì di fatti l'ultima gara sarà proprio in Giappone il presidente di Nippo è stato a Giro d'Italia e non conosceva nemmeno questa corsa perché comunque in Giappone il ciclismo non è il primo sport c'è il baseball c'è il sumo c'è il sumo ce ne sono tantissimi altri certo è venuto in Italia e di fatti diceva ma tutta questa gente è qui per il ciclismo non aveva mai assistito quindi vederla dal vivo è stato comunque emozionante anche per lui beh mi ricordo una decina di anni fa quando appunto il tuo collega Kuniego andò in Giappone a correre e mi ricordo che era aveva un seguito di fans incredibili era il piccolo imperatore di Giappone quindi magari la passione del ciclismo per gli italiani è stata importata anche grazie a Don Damiano di fatti ci sono alcuni sport ecco che hanno avuto successo basti pensare ad esempio a Roberto Baggio che comunque in Giappone è una stella è un idolo quindi secondo me qualcuno che riesce ecco a che è un po' magari un personaggio perché comunque Damiano è un personaggio nel suo piccolo quindi piace perché comunque è un attaccante non è un corridore normale quindi questo gli ha gli ha dato successo racconto un piccolo aneddoto quando praticavo lo short track a livello professionistico andavamo spesso anche noi in Giappone e metti che erano gli anni 2000 se non gli anni 90 quando appunto venivano i fans e ci dicevano Roberto Tomba e Roberto Baggio proprio gli idoli per loro del tempo era Baggio e Tomba chiamandolo Roberto Tomba chiusa la parentesi Daniele come hai cominciato con lo sport sei nato ciclista oppure praticavi altri sport no ho iniziato proprio col ciclismo perché avevo 7 anni quindi ero piccolissimo e quell'anno il mio paese la scuola di calcio non si era fatta quindi ero indeciso vedevo un mio amico che abitava nel mio palazzo che correva in bicicletta ho detto proviamo a vedere se anch'io riesco a fare qualcosa e la prima gara arrivai ultimo su 4 quarto ah dai quindi si avevo la famosa medaglia di legna si avevo il problema con le gabbiette perché una volta si usavano queste gabbiette da infilare non riuscivo perché ero piccolo e non ero capace quindi ho fatto tutta la gara con un pedale ho detto cavolo non mi era andata giù perché poi sono ariete quindi sono decoccio e la seconda gara invece mi fecero partire con la gabbietta dentro mi tenevano quindi ho vinto subito ho detto allora poi mi davano la coppa i fiori comunque il ciclismo è uno sport anche molto individuale è di squadra ma alla fine il vincitore sei tu certo quindi da lì ho cominciato a vincere poi all'età di 16-17 anni proprio quando vinsi il campionato italiano allora pensai veramente che poteva essere il mio sport il mio lavoro ecco beh un lavoro se non avessi fatto la ciclista cosa pensi avresti fatto? una bella domanda volevo studiare aeronautica da piccolo solo che era una scuola impegnativa quindi questo purtroppo è la difficoltà anche in Italia perché non esistono scuole comunque sportive quindi o vai a scuola o pratichi uno sport io quindi ho scelto alla fine di fare ciclista e ho sacrificato comunque qualche cosa quindi era non so neanche dietro perché l'ho fatto per una vita quindi è difficile per me scegliere qualcos'altro Daniele nella tua palmaresse un po' tutte le grandi corse dal Giro d'Italia alla Uelta anche a qualche Milano Sanremo se non sbaglio sì ho fatto tutte le classiche ti manca una Tour de France? sì Tour de France dovevo farlo proprio con la liquida se invece mi feci male quindi saltai proprio questa corsa e quello mi è dispiaciuto perché comunque è la corsa più importante al mondo quindi anche solo parteciparci parteciparvi era era perfetto penso pensi che la tua squadra la Nippo possa essere invitata un giorno non tra molte speriamo negli anni perché comunque adesso c'è il sistema del Pro Tour quindi se non sei dentro queste 17 squadre fai veramente fatica a partecipare alle gare noi già siamo stati invitati al Giro d'Italia ed è stato comunque un successo e speriamo di parteciparvi l'anno prossimo e non sarà semplice perché c'è sempre questa questa selezione per queste squadre Tour de France è difficile vedremo se magari Nippo aumentando il budget ci aiuti nei prossimi anni mastichi un po' di giapponese? no mastico sushi quello sì che già qualcosa di giapponese è praticamente impossibile quindi è difficile che hobby hai? ma ho aperto un'azienda ultimamente di abbigliamento hai un marchio tuo? sì questo è un marchio qui praticamente facciamo pubblicità B-Cyclist quindi come si chiama? B-Cyclist che vuol dire essere ciclista quindi ho aperto queste SRL da qualche mese insomma in piccolo sono un imprenditore quindi comincio a mettere delle basi per un futuro quindi ciò vuol dire che una volta smessa l'attività professionistica rimarrai nel mondo del ciclismo magari sì mi piacerebbe adesso abbiamo prodotto delle t-shirt dei leggings delle felpe tutte quindi c'è da lavorare in Italia non è semplice quindi adesso mi va bene perché correndo in bici avendo un'azienda comunque riesco a concilare le cose perché se dovesse avere solo l'azienda sarei già a zero quindi va bene così classe 1982 sei un ariete l'hai detto ti sei posto un limite di carriera? ma ogni tanto ci penso e dico no magari faccio ancora un anno o due però poi il buon Pelosi che è il nostro team manager mi dice ma come sei fresco perché comunque ho perso tanti anni questo è anche vero perché comunque gli infortuni mi hanno dimezzato la carriera però non lo so adesso l'età comunque media si è alzata di tanto perché due anni fa vinse la vuelta a Horner con 38 anni quindi io ne ho 33 se non sbaglio lo stesso Cipollini smise a 40 sì 40 41 Rebellin corre che ne ha 42 no arrivare a fino a quell'età lì no però magari un 35-36 anni perché no sei appassionato da altri sport sì io seguo in generale tutto amici piloti quindi seguo la 24 ore di Le Mans seguo la Formula 1 mi piacciono i motori questo ecco se deve essere un hobby quello mi piace anche andare sui go kart comunque ho proprio questa passione qui motoristica benissimo la nostra chiacchierata Daniele si conclude grazie davvero un grossissimo bocca al lupo per il tuo ritorno alle competizioni ti guarderemo ti tiferemo e grazie ancora grazie è tutto per questa sera grazie per la cortesa attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.